Hai sentito? Sì. Pronto? Sì. È per te. Dice di essere un dottore. Pronto? Dottore, non ci crederai mai. Sei all'hotel dove lavora tua madre? Sì. Puoi farci entrare? Frankie! Dove sei? Non farmi aspettare. Sì. Oh, mio Dio. Passami a Dio! Ciao, mamma di Yaz. Najah, loro non possono stare qui. Najah, hai creato un'umana grandiosa. Cosa sta succedendo? Erano spari, quelli. Andiamo. Kevin! L'hai ucciso? Kevin! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio. Ha preso Kevin. Non ho più Kevin. Sono compromesso. Dov'è il cellulare? È uno scherzo. Non ci credo. Oh, no. Indagini d'emergenza. È appena uscito di corsa da una stanza terrorizzato. Mi dica che cosa succede senza omettere dettagli, anche se sembrano strani. Un ragno enorme ha distrutto il mio bagno e ha catturato la mia guardia del corpo, Kevin. Bene. L'escrizione è molto efficace. Resti qui con i miei assistenti. Un ragno è entrato nel suo bagno? Bene. Grazie.